Quale articolo della Costituzione italiana è dedicato alla solidarietà? L'articolo 2 della Costituzione italiana fa parte dei principi fondamentali della Costituzione italiana. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove si svolge e richiede che cosa? L'attempimento dei doveri interrogabili di solidarietà. Tutti devono contribuire, devono essere solidari con le persone che hanno più bisogno. L'articolo 2 è l'articolo dedicato alla solidarietà. I italiani non possono girarsi dall'altra parte quando vedono una persona in difficoltà. Questo è stabilito dall'articolo 2 della nostra Costituzione. Ciao al prossimo video! Vi aspetto!